I fongitelli sono sia un contorno estivo, accompagnati da una bella frisa, ma anche per un piatto sfizioso da mettere su una bella fetta di pane arrostita. Semplici e appetitosi devono il loro nome al modo di tagliare le melanzane, che, una volta fatte a cubetti e fritte, assumono le sembianze di piccoli funghetti. Prepararle è semplicissimo. Tagliamo le melanzane a cubetti, friggiamole e lasciamole da parte. Prepariamo la cipolla tagliata a cubetti e un aglio, più i pomodorini. Versiamo nella padella aglio, cipolla e soffriggiamo. Versiamo i pomodorini, sale e dopo 10 minuti versiamo un bicchiere d'acqua, il basilico e facciamo cuocere bene. Aggiungiamo le melanzane e amalgamiamo il tutto. Ed ecco il nostro piatto pronto! Seguimi per altre ricette!